Ecosistema unico e centinaia di specie di piante ed animali. Siamo venuti a Belovechkaya Puska, nella parte occidentale della Bielorussia, al confine con la Polonia. Un tempo un'immensa foresta primordiale copriva l'intera pianura europea da queste parti. Oggi i suoi resti sono conservati solo qui, nella più antica riserva naturale d'Europa. I primi documenti scritti a Belovechkaya Puska risalgono al X secolo. Questa zona ospita molte rare specie di animali e uccelli, ma il segno distintivo della riserva è il bisonte europeo, l'animale terrestre selvaggio più pesante sopravvissuto in Europa. All'inizio del XX secolo, a causa della caccia, i bisonti europei erano sull'orlo dell'estinzione. A Belovechkaya Puska stiamo facendo grandi sforzi per preservare gli animali in via d'estinzione. Uno di questi è il bisonte europeo, un simbolo di questo posto, un animale che oggi può essere trovato in natura solo in quest'area. All'inizio del XX secolo, a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori. All'inizio del XX secolo, a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori. All'inizio del XX secolo, a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori.